Nuovo centro ginecologico del Poliambulatorio Città di Collecchio. In un ambiente accogliente e discreto, l'equip coordinata dalla dottoressa Patrizia Greci offre un servizio a 360 gradi per le donne di ogni età. Prevenzione e cura dei disturbi ginecologici, contraccezione, riabilitazione del pavimento pelvico e un percorso gravidanza completo sono solo alcune delle attività svolte. Affidati all'eccellenza. Poliambulatorio Città di Collecchio. L'attenzione che vorresti. Grazie a tutti.